buongiorno a tutti sono angelo guastellini account manager cetriolo per basfrunems oggi mi trovo a scoglitti all'interno di una serra di cetriolo per presentarvi la nuova varietà della nostra gamma per il periodo di produzione invernale cannitello f1 è la nuova varietà per i trapianti che vanno da ottobre a dicembre in sicilia mentre in penisola ci spostiamo le trapianti che vanno dal fine gennaio a fine marzo per poi ripetersi di nuovo tra luglio ed agosto cannitello è una varietà del ciclo precoce di produzione ha una pianta molto sana in tutto il ciclo di coltivazione che presenta dei frutti lunghi belli dolci spinosi brillanti con un picciolo sempre presente durante tutta la coltivazione il cetriolo cannitello è ideale nelle diete ipocaloriche è ricco di acqua sali minerali e vitamine cannitello f1 qualità precocità e produttività il nuovo cetriolo per il periodo invernale per qualsiasi altra informazione contattateci oppure consultate il nostro sito web www.bassf.com.br www.bassf.com.br We create chemistry www.bassfin.org cariotyr